6 maggio 2015 ci troviamo a Ro Milano Fiere per indagare per Made in Italy, sono dei settori che sono più interessanti per l'esportazione e per la qualità tecnologica delle aziende coinvolte. Parliamo del settore della plastica che è esportato in tutto il mondo e per affrontarlo, indagarlo nel migliore dei modi, non potevamo far altro che parlarne con i protagonisti, dalle macchine ai semilavorati, vediamo. Noi per questo settore produciamo tutto quello che riguarda la termoformatura e la lastra, quindi dalle macchine di termoformatura, quindi macchine termoformatrici sotto vuoto, pressure forming twin sheet, alle macchine per rifilatura del prodotto stampato in plastica, alle macchine per la produzione dello stampo in alluminio per la termoformatura da lastra. Seguiamo tutte le industrie, nel settore principalmente automotive o comunque terzisti, che fanno prodotti termoformati da lastra. Al momento siamo su 85% estero e 15% mercato locale. Stiamo andando molto bene nell'est Europa, Stati Uniti e Far East rimangono comunque i tre principali mercati di riferimento attualmente.